Non mi aspettavo di vincere perché è vero che non erano difficilissimi, però pensavo di essere tipo terzo o quarto, quindi anche l'emozione di scoprire di essere il vincitore mi ha ripagato moltissimo. 13 anni il prossimo giugno è una passione per la logica e la matematica che deve alla nonna e al suo talento naturale. La passione per la matematica è iniziata con mia nonna che mi ha fatto giocare con la matematica, al memory, alle carte e quindi i giochi comuni li rivisitava per farmi imparare la matematica e poi è continuata con i miei genitori che mi hanno aiutato e valorizzato. Lorenzo frequenta la seconda media dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca di Arezzo ed è riuscito a qualificarsi per la finale nazionale dei giochi matematici del Mediterraneo 2023. La parte logica è la parte del capire il perché si applica una formula rispetto a un'altra. Sì, è per questo che nei giochi matematici trovo il mio massimo splendore, si può dire. Ai ragazzi viene chiesto anche uno sforzo nel ragionamento e magari di fare eventuali esercizi o prove che vanno un po' al di là di quello che può essere il programma specifico che si fa a scuola. Quindi sono stimolanti proprio per quello perché la matematica viene vista appunto come un gioco e soprattutto come un modo proprio per mettersi un po' alla prova. L'esercizio più difficile è quello che mi è rimasto più impresso. Dovevo trovare un numero sotto 1300 che si è diviso per 3, per 5, per 7, per 4 e per 9 e dava sempre il resto 1. Un istituto all'avanguardia, quello diretto da Rossella Esposito, che sviluppa da sempre le materie STEM, non solo con la didattica ma anche con laboratori extrascolastici. Diciamo che i ragazzi sono incuriositi, viene incentivata la motivazione anche proprio attraverso una serie di attività laboratoriali, cioè apprendono in situazione, per cui questo stimola sicuramente la curiosità e anche la voglia di apprendere sempre di più. A Palermo il prossimo 14 maggio Lorenzo si confronterà con altri studenti che arrivano da tutta Italia, ma al di là di come andrà questa competizione, le idee sono già chiare per il futuro. Io ho l'idea di proseguire fino all'università gli studi, miro a laurearmi con il massimo dei voti e poi voglio fare qualcosa che fonda la mia passione per l'informatica con quella della matematica.